Due giorni per parlare di rigenerazione urbana, Tarantovecchia, Cartolina del Degrado o Museo della Storia e il tema del convegno organizzato dall'Associazione La Città che Vogliamo al Ristorante Il Gambero. Un focus partito ieri e che ha visto intorno ad un tavolo esperti ed istituzioni confrontarsi con i cittadini. A noi sembra che nel passato spesso i progetti finanziati, gli appalti commissionati fossero l'obiettivo che si voleva raggiungere. Invece ci pare che evidentemente non possa essere questo il percorso. I progetti, gli appalti, le risorse sono strumentali rispetto a un progetto di futuro che si vuole realizzare. E il progetto di futuro non può essere calato dall'alto, non può prescindere dalle aspettative, dei sogni e dei desideri della gente che abita nel quartiere. Il programma di rigenerazione deve tener conto dell'aspetto sociale attraverso il coinvolgimento della gente per risolvere i bisogni quotidiani. In città vecchia sono sempre di più i privati che investono, ma non un centimetro di cemento in più andrebbe tollerato. E poi l'operazione culturale. I tarantini stessi devono andare al di là del ponte girevole, altrimenti l'isola resterà sempre un quartiere a rischio.